Un sorriso per la solidarietà è un sogno che finalmente si concretizza. Era un punto che ci eravamo già prefissati durante la nostra presentazione del 6 maggio e in modo così veloce e così semplice si è riuscito a concretizzare. È un progetto che presenteremo l'8 di settembre presso Villa Eccetra e l'evento inizierà alle ore 19 e lì sveleremo le associazioni che collaboreranno con noi che stanno collaborando, le persone, i cittadini e tutte le parrocchie e tutti gli enti che ci stanno dando una mano. Il nostro operato è lungo le strade della nostra città. Essendo giovani cerchiamo di far trasparire il più possibile il nostro entusiasmo, il nostro amore per il nostro territorio e lo facciamo sempre con il sorriso. Vogliamo soprattutto dare un sorriso alle persone che fondamentalmente non lo hanno più per svariati motivi. Non soltanto a Ferentino c'è bisogno di solidarietà. La solidarietà serve di più su tutto il territorio e oltre. Noi ovviamente non ci stiamo sostituendo all'istituzione e all'amministrazione in carica perché sappiamo che fondamentalmente hanno dei limiti essendo delle istituzioni. Noi cerchiamo di rafforzare l'impegno che impiegano loro, ma nel 2016 è ancora più difficile farlo perché mentre l'istituzione può arrivare nel modo burocratico, nel modo concreto, noi cerchiamo di essere vicino e di essere solidari alle persone anche con un semplice gesto, con un abbraccio, con un sorriso e questo penso che nei tempi di oggi conti ancora di più. L'evento è aperto a tutti, in particolare alle persone alle quali sarà rivolta la solidarietà. L'invito ovviamente è aperto alle istituzioni, agli imprenditori, ai cittadini e soprattutto alle persone che hanno bisogno di sorridere, di un sorriso per la solidarietà, alle persone che hanno perso la dignità e cercheranno di ritrovarla. Noi le aiuteremo a farlo, sorridendo.